Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova pillola dedicata a Shopify. Io, come sempre, sono Federico Carminati, il docente per scuola e-commerce del corso Shopify Power Training. Oggi andremo ad affrontare un argomento, nella pratica molto semplice, però che può essere nascosto per tanti, e sto parlando delle icone dei social all'interno del nostro e-commerce su Shopify. Come sappiamo, i social al giorno d'oggi sono fondamentali e dunque i nostri clienti, per aumentare la social proof e per vedere veramente qual è il nostro valore, ci valutano non solo a quello che leggono sul nostro sito o che cercano su Google, ma anche dalle nostre pagine Instagram, Facebook e di qualsiasi altro social che abbiate deciso di utilizzare e di implementare al meglio all'interno del vostro e-commerce. Dunque, andiamo subito a vedere nello specifico come possiamo far comparire queste icone all'interno del nostro sito. Bene, spostandoci qua sul computer, vi basterà andare in negozio online, personalizza il tema, come andiamo a vedere appena si carica. Noi qui le abbiamo già, infatti qua abbiamo già Instagram. Ma perché può essere difficile implementare? Perché se voi andate nel footer, non c'è niente che vi fa capire come aggiungere o meno queste icone. Perché dovete andare, al post che andare nel footer, che è questa sezione qua, bisogna andare in impostazioni tema, social media. Inserendo qua il link, dunque per esempio andiamo ad aggiungere Facebook, che qui non c'è. Andiamo qua, pagine, necrostate la ceci, ovviamente questo è ancora in costruzione. Però se vi interessa iniziate già a seguirlo, visto che alla fine del 2020 vi anticipo già che sarà un caso di successo su Shopify. Speriamo, però comunque lo sarà. Vedete, se noi saldiamo qua Facebook, comparirà subito l'iconcina di Facebook. Se abbiamo fatto tutto bene, aspettiamo che si salvi. Come vedete è molto semplice. Vedete, è già pronto. Un nostro cliente può andare a visualizzare la nostra pagina Instagram e il nostro Facebook. Oltre a questo potremmo aggiungere anche Twitter, Pinterest, Snapchat, Tumblr, LinkedIn, YouTube e Vimeo. Però in questo caso a noi ci interessa solo Facebook ed Instagram. Tanti di voi me l'hanno scritto in privato, anche sui vari gruppi, sotto ad alcuni commenti, perché non riuscivano a trovare questa sezione. È vero, è un po' nascosta, però comunque è qui in bella vista. Vi ricordo che i social sono una parte molto fondamentale, anzi, almeno il 50% deriva dai social. Del vostro impegno dovete dedicarlo lì. Una bella immagine coerente col vostro sito, una bella assistenza clienti, un contatto con il cliente, aumenta la social proof e le conversioni. Dunque non sottovalutate questo aspetto, inserite le iconcine, ma soprattutto una volta che il cliente clicca su queste icone, deve trovare delle pagine Facebook, delle pagine Instagram, dei profili Twitter, LinkedIn e dei video su YouTube di qualità, valore e soprattutto belli, interessanti e che siano attivi e costanti nel tempo. Dunque, mi raccomando, continuate a seguire i nostri video gratuiti e riuscirete a costruire un e-commerce di successo tramite Shopify, che come avete visto è una piattaforma formidabile, semplice e completa allo stesso tempo, però bisogna utilizzarla nel migliore dei modi. Dunque seguite i nostri video gratuiti su YouTube e su Facebook per rimanere sempre aggiornati. Io sono Federico e ci vediamo nel prossimo video. A presto!